eccoci qui turismo medico albania marion mardodai 22 maggio domenica stiamo sfruttando questa domenica per presentare per vedere dimostrazioni dei militari albanesi in una dimostrazione collaborazione con i paesi di nato che lide l'america è un allenamento si chiama defender 21 questo dimostra che albania sta seriamente facendo passi avanti sta diventato un paese serio da considerare tutti i campi inclusa la sicurezza vi dimostro un po la dimostrazione appena arrivato anche il presidente ecco qui sono i giornalisti stanno aspettando un po' No, 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 no. Per il momento sta venendo il primo ministro per parlare, il primo ministro d'Albania e di Il primo ministro d'Albania e di rama eco fra pochi minuti parleranno tutti agli ufficiali riguarda la sicurezza, l'Alleanza con la Nato, l'importanza di questa alleanza, e così via. Turismo medico Albania, in ogni giorno c'è una sorpresa, così devi venire a sfruttare la nuova Albania, diciamo, in ogni giorno diventa più sicura, vieni a proteggere la tua bellezza. Ciao.